Francesca Michelin Francesca Michelin, il vulcano della Power It's estate 2017, l'intervista e uno dei pochi posti dove la pietra parla da sola ed è un luogo unico, non è né un teatro né un club. Che è stata anche pochi giorni prima, ospite di Elisa, per l'occasione ha riarrangiato, per orchestra, l'amore esiste. La mia passione più grande è l'orchestrazione, studiando al conservatorio è una dimensione che a me piace e diverte. Ora vorrei riarrangiare Vulcano, ci sto già lavorando. Le dico solo che sarà un Natale particolare. È stata protagonista di due serate collettive. La musica è collettività, è festa. Queste cose sono belle e divertenti. X Factor, che lei ha vinto, è alle audizioni. Sono momenti particolari, personalmente ricordo l'intensità delle home visit. Vedere gli occhi dei ragazzi e leggerci la loro ansia e la loro emozione quanto fosse presente in quei momenti. Si sente condizionata dai giudizi? Ascolto fino a un certo punto quello che dicono gli altri, studio come andassi in palestra e mi aggiorno quotidianamente. La sua è una vita di sacrifici. Sacrifici se ne fanno sempre se hai progetti ambiziosi. Mi fa piacere quando la gente ha voglia di ascoltare la mia musica. È il momento in cui più di tutti percepisco il mio essere, la mia voglia di comunicare. Oltre al disco, altre idee prossime venture?. Oltre al disco, altre idee prossime.